Ha svelato alcune retroscena relativi alla chiusura del cerchio sulla sua figura. Sportivamente, atteso la mano verso Domenico Iannacone, che fino a poche ore prima della sua ufficializzazione sembrava destinato a quel ruolo, quello di candidato governatore del Molise per il centrosinistra. Il sindaco di Campovasso, Roberto Gravina, ha parlato a tutto tondo di quanto accaduto nell'ultima settimana, ovvero delle incessanti riunioni della coalizione, in cui sul tavolo non c'era il suo nome, fino alla telefonata di Giuseppe Conte. Ora l'idea è quella di allargare la coalizione, ma in agenda ci sono dei punti molto importanti, combattere lo spopolamento, tutelare la sanità e potenziare le infrastrutture. Il lavoro più importante adesso è proprio questo, quello di ampliare il nostro perimetro di azione, anche perché dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, la capacità di dare, su questo ci tengo molto, noi dobbiamo dare dei messaggi chiari, pochi ma chiari, anche perché veniamo da un'esperienza che io per la verità vorrei estendere anche un po' più dei cinque anni precedenti, dove la nostra regione si è impoverita, poi qualcuno potrà dire il contrario ma parlano i fatti. E quindi è evidente che in questa azione dobbiamo essere chiari nei messaggi e essere chiari anche con gli apparentamenti e mi pare che ormai si sia fatta chiarezza, perché siamo ormai al punto di partenza della campagna elettorale con un quadro ben delineato, almeno così mi pare, di alleanze. Tenga conto, abbiamo approvato il rendiconto in comune il venerdì mattina e nella consapevolezza che il giorno dopo probabilmente ci sarebbe stata la presentazione di Anna Cone, e invece poi il Presidente Conte mi ha detto guarda devi fare questa cosa che ti chiediamo noi, ti chiede il Movimento 5 Stelle, sappiamo che è un atto diciamo così difficile perché insomma era chiara anche la mia volontà, io non ho mai fatto un passo in quella direzione perché... Infatti lo ha sempre detto insomma. Assolutamente, quindi lo confermo ancora oggi. Grazie. 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 Grazie.